Allora, il mio primo ricordo che ho visto il primo film in cinema è stato quando avevo più o meno 11-12 anni e ci hanno portato dalla scuola in cinema a vedere il film russo. Tutta la scuola, era bello perché non dovevamo studiare, noi tutti contenti, però il film era molto forte e in effetti quando sono uscita dal cinema non ero più così solare e illare come quando sono entrata in cinema. Mirka per me è una lunga storia, mi sembra già da anni che esiste per me perché Rashid in effetti me l'ha offerto molto molto prima di girare, ancora prima che io sono andata a New York mi ha offerto questo personaggio e poi però le acque si sono calmate, non ho saputo niente. Poi sono ritornata e dopo un anno ci siamo di nuovo incontrati e questo film cominciava a nascere questa storia, questo personaggio. Voglio lasciarmi sorprendere dal futuro, ecco. E poi nel mio lavoro, dopo aver fatto questi bellissimi film, lavorare con questa gente, con questi registi così bravi è molto difficile trovare questo livello e questa qualità nelle cose che mi offrono e quindi sono abbastanza selettiva perché penso che fare un passo dietro è una cosa che non fa bene farla, quindi voglio fare solo passi avanti e dopo Mirka ci vuole una cosa, non so che cosa, significa un passo avanti dopo Mirka perché Mirka è Mirka.